Allora intanto Togliamoci sto cappello del cazzo Perché non c'è niente da festeggiare Primo Secondo Titolo del video Quando lo vogliamo esonerare Allora io vorrei tanto Che qualcuno della dirigenza del Milan Qualcuno dentro la società Qualcuno che ne sa qualcosa più di noi tifosi Esca allo scoperto E ci dica cosa deve fare Pioli ancora Per essere esonerato Perché se deve essere così Se dice che Pioli deve perdere altre 17 partite Per essere esonerato Io sono il primo Che per le prossime 17 partite ti fa contro Perché non è possibile Ultimi in classifica 8 punti Hanno gli stessi punti che il Milan ha fatto in Champions League 8 punti Campo difficile Non mi pare L'internazionale ci ha vinto 4 a 0 Ma non serve rifarsi a loro Mi sembra che se hanno 8 punti Altre squadre anche più in classifica Abbiano vinto su quel campo Credo e penso Però C'è un però Il però è che Pioli Ha vinto Contro il Newcastle E ha vinto contro il Monza E allora Per altri due mesi Non si può parlare di panchina a rischio Perché vi stanno prendendo per il culo ragazzi Vi stanno prendendo per il culo E soprattutto una gran parte di voi Che nega l'evidenza anche sotto tortura Gli piace Si mette a pigreco mezzi Per farsi prendere per il culo Il Milan va male Perde partite vergognose Diamo l'ultimatum a Pioli Contro il Frosinone Ovvio che vince Dallo Dallo contro il Sassuolo l'ultimatum Dallo con l'Atalanta l'ultimatum Dallo quando affronteremo la Roma La prima di ritorno Dallo lì l'ultimatum Voglio vedere quanta strada fa ancora Quella torre del cazzo Io mi chiedo no Ora Io porto rispetto a qualsiasi squadra Che giochi in sera Io porto rispetto anche all'internazionale Perché io porto rispetto pure a loro A me non mi avete mai visto Sfottere pesantemente Personalmente Altre squadre Tifosi Per me il calcio è uno sport C'è rivalità Ma tutto ha un limite Perché così deve essere Ma molta gente Anche di voi Non lo ha capito Che il calcio è un intrattenimento Fatto Da persone Che potremmo essere Tuo padre Tuo fratello Tuo amico Tuo zio Potremmo essere Chiunque su questa faccia della terra A essere nel mondo del calcio Attivamente O passivamente Ma la salernitana Che è ultima in classifica Tu Devi andare a Salerno E vincere Non hai scuse Molti di voi Molti di voi Perché io Qua faccio i video Mi faccio i cazzi miei Dico le mie cose Rispondo ai commenti Che meritano di essere Che meritano risposta E quelli che superano il limite Ve lo dico Venite bannati dal mio canale Perché sul mio canale Si porta rispetto Come io lo porto a voi Io pretendo altrettanto Io sono sui social Io sono il fantasma Leggo Traggo la mia opinione E mi faccio i cazzi miei Perché Se voi andate Su qualsiasi pagina Di Di facebook O instagram Cazzetta dello sport Tutto sport Cazzetta dello sport Rompipallone Ci sono Ogni Foto Post che mettono Ci sono Il 95% Sono commenti Idioti Idioti O di gente che Non ne capisce un cazzo O di gente che Non vuole capire un cazzo Bene Il punto è Perché vi fate prendere Per il culo Perché Io Leggo Cosa scrivete Lo leggo Il Milan È Quattro giorni Che stanno scendo Notizie Sull'attaccante Il Milan Compra l'attaccante Ok Ma non che compra Da Davide Il Milan domani Compra Holland Il 2 gennaio In Coppa Italia Contro il Cagliari Parte titolare Il Milan Gioca una partita Tatticamente Come quella di oggi A voi Che ci sia Holland Giru Vlaovic Vostro Vostro nonno Cosa cambia? Niente Perché Il problema del Milan Come dico sempre E mi sto veramente Rompendo il cazzo Di dire le solite cose Non è Individuale Prima quando eravamo in live E ringrazio le tante persone Che hanno partecipato stasera Perché siete stati veramente In tanti Ho detto Se voi domani Dovete andare A lavorare Ho Tanti di voi A scuola Perché Ho tanti ragazzi Che con piacere Mi seguono Andate a scuola O lavoro Arrivate E non sapete Cosa fare Qual è la vostra reazione? Intanto Stupore Secondo La prima cosa Che iniziate a fare È Fare quello Che vi viene Questo è quello Che i giocatori Del Milan Stanno facendo In campo Fanno Quello Che Possono Questo è Questo è il quadro Della C Milan 2023 2024 Ma anche 2022 2023 Ma siccome Pioli Ha raggiunto una finale di Champions Dove tra l'altro è stato anche umiliato Allora è tutto perdonato Voi arrivate al lavoro La mattina Mettiamo che voi di lavoro Lavorate in ufficio Arrivate E il vostro capo Non vi dice cosa dovete fare Ammesso che voi non lavorate lì da 30 anni Allora Sapete già Andate da soli Ma vedete che voi Avete un capo sopra di voi Che vi coordina i lavori Lui arriva L'azienda sta dando a puttane Avete perdite State facendo schifo E l'unica cosa che fa Si mette così E vi guarda Vi guarda Affogare Nella merda Perché questo è quello che Pioli Parafrasato Sta facendo con il Milan Foto della partita 88esimo minuto Saledetana ancora Purtroppo in vantaggio 2 a 1 Perché Fosse finita 2 a 1 Ci staremmo raccontando Una storia che avrei raccontato Paldosalmente Molto più volentieri Inzaghi Scalmanato Correva Correva più Sul 2 a 1 Che quando era calciatore Anche perché era sempre Sulla linea del fuorigioco Quindi A maggior ragione Pioli Sotto 2 a 1 Con l'ultima in classifica Zitto Così In panchina Ad aspettare Non so cosa Poi Poi viene il genio di turno Che in realtà È già arrivato Il genio di turno Non è che Si è fatto mancare Eh ma Pioli Oggi è stato bravo Perché ha messo Jovic Ha due attaccanti Cacati Ovvio che Qualsiasi allenatore Abbia due attaccanti In panchina Li manda in campo No? Io credo che sia una cosa Abbastanza logica questa Ma ovviamente Se un altro allenatore Vince una partita È una cosa normale Se Pioli Vince una partita È il miglior allenatore Del mondo Questo è un problema Vostro Questo è un problema Di chi ti fa Milan E non ha il coraggio Di mettersi contro Questa situazione Perché io c'è Io Quest'anno Il derby I 2-0-0 In Champions League Il Napoli Il Napoli La Juventus L'Udinese A parte Voglio 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 Di sua spontanea volontà Stare ancora Cosa che io Veramente Non ho mai visto In vita mia E veramente Mi sarei sempre augurato Di non vedere Eppure sto continuando A vedere Perché poi Giochiamo col sassuolo Sabato Non recuperiamo nessuno E perderemo altri pezzi Perché sicuro Quella situazione Che evidentemente Ci sono dei fisioterapisti Dei preparatori atletici Che non sanno Né prevenire Né gestire gli infortuni Questa situazione Non frega Un cazzo a nessuno E chi ci rimette Siete voi Io compreso Ma siete voi E non ve ne accorgete Di un cazzo Adi Non è ancora Parato della partita Parliamo della partita Parliamo della partita La partita È la stessa Dal 5 o nel derby È la stessa partita Ogni Volta È la stessa partita Questa è uguale La partita di Lecce Ed è uguale La partita di Napoli Uguale Identica Cosa E noi Ci siamo Rotti Il cazzo Ci siamo Altamente rotti Il cazzo A meno io Poi voi Non lo so Domanda che Prima di chiudere Mi fate spesso Qui però io Non A parte la risposta Sarebbe troppo lunga E poi Non renderebbe Vi rispondo di persona Quando mi chiedete Anche in live Ma Chi ci metteresti Al posto di Pioli Raga Parliamoci chiaramente Quanti allenatori Sarebbero capaci Di fare meglio di Pioli Io penso Tutti C'è A vedere come gioca Il Milan Tutti Tutti ragazzi Mi è stato detto Io se abbia pensato A Nicola Nicola ragazzi Nel 2017 Ha preso un crotone Ultimo degli ultimi Una squadra Aberrante L'ha salvata Due anni fa Ha preso La Salernitana Squadra Aberrante L'ha salvata Se è preso Il Torino Squadra allo sbando L'ha salvata Di sicuro Se è riuscito A salvare Tre squadre Date per spacciate Vuol dire che Come allenatore Scarzo scarso Non è Poi magari Potete avere ragione Voi che messo Sulla panchina Di una squadra Come il Milan La situazione Soprattutto a livello Psicologico Possa cambiare E noi sono Pienamente consapevo Di questa cosa Non vi do torto Però Cristo Fare peggio Di Pioli È impossibile È impossibile Ragazzi Ma Se sai Che Giroud Non ne coglie Una Se sai Che Giroud A palla Al piede Vale zero Che cazzo Gli metti I filtranti Vuol dire Che non c'è Un allenatore Che è in grado Di cogliere Questo aspetto E dire no La palla A Giroud Gli va messa Sui piedi Davanti alla porta O al massimo Sulla testa Perché se tu dai In contropiede E mana A Giroud Tu arrivi La linea di centrocampo E torni indietro Non c'è gente Che non è Che è capace Neanche di dire Questo Vabbè Pensi Mi tagliare Un ottimo concetto Però A voi piace Così A me no Mi dispiace Io penso Che Se viene esonerato Abbiamo toccato Il fondo Ma se non venisse Per sbaglio Esonerato Dovremmo ancora Patire tanto E Se non è Desonero Questa partita Io non so Cosa possa essere Desonero Perché poi ci sono Alcuni di voi E adesso Chiudo perché Il video è abbastanza Lungo Che Sono molto Permalosi Sono d'accordo Con me Poi come C'è un Una piccola Incomprensione Mi odiano Però io Continuo sulla mia linea Pioli Il giorno Che è presonerato Vedrete una persona Che si fa un segone E schizza su tutta Italia Detto questo Seguitemi Su Il cazzo Di Instagram Proprio non su Instagram Ma sul cazzo Di Instagram Ecco così Lo vedete Non mette a fuoco Ma Lo vedete Youtube Twitch Ci vediamo Con la live reaction Che adesso monterò Con molta voglia Molta Molta voglia Ciao a tutti